E' in una nota che la CISL Funzione Pubblica rivolge al Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta la richiesta di costituire una delegazione trattante. La sigla sindacale, che si dichiara soddisfatta per la riconferma nel managgimento dell'ASP di Caltanissetta, chiede di convocare la delegazione trattante in tempi brevi per definire gli istituti contrattuali approvati nel contratto decentrato. Le richieste nello specifico riguarderebbero, secondo quanto riportato nella nota, la Costituzione dei fondi 2022 per poter emanare gli avvisi relativi agli incarichi di funzioni e progressioni verticali. Inoltre chiedono di procedere al piano della performance per il riconoscimento della produttività e la conclusione dell'iter relativo alle progressioni economiche orizzontali 2021 per il personale che non ha avuto riconosciuto l'istituto della tornata precedente. A sottoscrivere la richiesta sono il segretario generale CISL Funzione Pubblica Agrigento Caltanissetta ed Enna Salvatore Parrello, il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Agrigento Caltanissetta ed Enna Giovanni Luca Vancheri e il segretario aziendale CISL Funzione Pubblica Antonino Michele Guagenti.